il VAR ragazzi il VAR ha tolto un po' di emozioni che questo ci dava prima che arrivasse il VAR è anche vero però è anche vero che ha cancellato delle nefandezze arbitrali come come quelle degli anni 90 cioè almeno diciamo che ora c'è la possibilità di vedere se una palla entra oppure no a differenza di di tanto tempo fa però gli errori persistono gli errori ci sono sempre e quello è il problema e se hai davanti dei disegni questa è una mia impressione se hai davanti dei disegni che devono avverarsi lo dico ai tifosi interisti se hanno davanti dei disegni che devono avverarsi si devono avverare io non sono piangina non mi lamento mai degli arbitri il mio piccolo quando giocavo ho sempre avuto dei grandi problemi con gli arbitri si potrà capire il motivo sono uno fumino ma è così ragazzi è così la regola dice che in occasione di piena visuale interviene l'arbitro giusto? e la VAR non può intervenire mi sbaglio? e invece in occasione di piena visuale il VAR interviene in Inter in Inter Bologna e quindi vuol dire che è una chiamata irregolare va bene? non lo volevo dire ma ora Giuseppe Pensi del VAR di Rocchi Rocchi a Firenze addirittura dicono anche è una voce sono macchiato con una penna dicono addirittura se è il tifoso della Juve lo chiamano Gobbo ma non lo so se lo fanno per scherzare io non so se di squadra sia Rocchi ma a Firenze gli danno tutti del Gobbo per esempio lui è fiorentino quindi vuol dire la chiamata in Inter Bologna l'è irregolare punto va bene? ci siamo fino a qui avevo la radio acceso addirittura si vede che a Ursolini l'albitro gli fa segno gli dice alzati ciccio e poi dopo in occasione di piena visuale dove il VAR non può intervenire interviene il VAR e dà rigore cioè mi apisci la devo dire tutta la dico nell'occasione dello stop di bicipite di Pulisic anche lì hanno trovato la scusa che non avevano un frame che gli permettesse di analizzare a 360 gradi l'azione non abbiamo un frame che ci possa consentire vedi anche lì secondo me le immagini delle tv delle varie tv sportive delle varie tv internazionali non ti dico internazionali italiane Sky da Zon dovrebbero essere confrontati confrontate con le immagini della Lega perché facci caso a volte ci sono delle immagini che il VAR non ha ma che hanno le televisioni perché non confrontarle queste immagini perché perché non le confrontiamo le immagini delle tv con quelli della Lega ragazzi Mattioso vuoi ragionare quindi hanno trovato la scusa e non avendo determinate tipologie di immagini non hanno potuto annullare il gol cioè loro hanno delle immagini ci sono le tv che hanno immagini di tutti i tipi dove si vede cioè ragazzi chi ha giocato a calcio un po' lo sa la palla la gira quando Pulisic sta per quando la palla sta per arrivare a Pulisic la palla la gira ad un certo punto la palla si ferma si ferma perché la jappa si ferma la palla perché gira così e la stoppa con i bicipiti e poi la rilascia ma di cosa vuoi ragionare non si guardano i programmi calcio e pesca viste conosce il calcio parlo alla bar a Rocchi ma di cosa ragioni Rocchi con quell'arroganza di tv ma di cosa vuoi ragionare purtroppo ragazzi io vi dico ci sono i pro e i contro nel VAR secondo me ci sono tantissimi contro quello che a me dà più noia è che tolgano l'emozione del gol perché fanno gol non sai mai se esultare bisogna aspettare lo convalideranno stanno riguardando mentre prima entrava entrava ragazzi poi ci sono anche dei pro come ho detto prima però sappiate che queste situazioni e a me non piace parlare di queste cose ne sto parlando perché me l'avete chiesto e per rispetto vostro ne parlo perché mi avete chiesto Giuse come la vedi Giuse come la pensi ma sappiate che queste situazioni ci saranno sempre i gol di Rabiot contro di noi facciamo un esempio tanto per quelli lì che che rivolgono lo scudetto del 2006 che 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 dovrebbero andare lì al tribunale di guerre stellari per richiedere lo scudetto parlo dei gobbi gol di Rabiot di mano non è stato chiamato il VAR perché non è stato chiamato il VAR parlo del gol di Rabiot contro noi contro di noi ripeto perché l'arbitro aveva la piena visuale ecco perché non è stato chiamato il VAR è stato detto che era involontario la mano di Rabiot ve lo ricordate il gol di Rabiot vero? e addirittura il signor Rabiot veniva dalla partita precedente se non sbaglio dove aveva fatto un altro tocco di mano decisivo ma di cosa vuoi ragionare? io non lo so io ti sto solamente sternando una mia impressione se c'è un disegnino se c'è un disegnino quel disegnino ragazzi si deve avvenire perché a quanto pare cioè voglio dire anche Rocchi Rocchi difende l'indifendibile allora come concludendo in conclusione come tu le risolvi queste cose qui fermando quelli del VAR due tre mesi non pagandoli perché quando frughi in tasca la gente gli fai male e li responsabilizzi li responsabilizzi frugandogli in tasca non pagandoli quindi quando ci sono questi errori come fermano gli arbitri fermare loro ma senza stipendio perché è una roba vergognosa ora te l'ho detto ciao ciao Ita